Ed ecco il nostro Ramirez che esce in decima posizione a questo torneo Raccontaci la tua mano Ramirez, come è andata? Proprio adesso? Purtroppo, devi raccontarci come sei andato in blind war Piccolo buio chip leader Si appoggia solo fa call del mio grande buio Io ho K4 e decido di fare check Guardo il flop, casca il K E ci ritroviamo ai resti Io con K4, lui con K10, kicker alto E non cambia nulla Comunque è un'amarezza per non essere arrivato al tavolo finale Ma sicuramente è un ottimo torneo Più di decimo finalmente Nono, per la precisione Nono, porta a casa una bandierina È un grande risultato e alla prossima Grazie, grazie a voi